Allora, ho visto che in diversi mi avete chiesto della notizia che sta girando sul ritorno di John Cena. L'ha fatto anche Wolf Simo, che se non sbaglio ha scritto in chat per la prima volta, quindi ben arrivato tra di noi. Eh, magari eri già lì che lurcavi, ma hai scelto di rompere il ghiaccio. Allora, è uscita la notizia oggi che John Cena è pubblicizzato, o lo sarebbe, l'ha detto Ross Sapp di Fightful, che è una fonte molto seria. È pubblicizzato per il Raw del 6 marzo, che si svolgerà al TD Garden di Boston, quindi praticamente a casa sua. C'è anche una foto, adesso vado a prendervela, un attimo che la carico. Eccola qua. John Cena to appear live in Boston. I tickets sono già disponibili su Ticketmaster, quindi sembra ufficiale. Sembra ufficiale, poi non è detto che John Cena sia lì per lanciare la sfida ad Austin Theory o che altro. Però è molto probabile, è possibile, più che probabile. E quindi le cose si fanno molto, molto interessanti. Quando c'è John Cena è sempre festa. Però attenzione a non eccedere subito nel facile entusiasmo. Noi non sappiamo esattamente cosa combinerà. A voi piacerebbe, chat, a voi piacerebbe John Cena contro Austin Theory? Ditemelo, ditemelo nei commenti. Intanto ascoltiamo se piacerebbe a Simon Direff. Vabbè, allora, andrebbe preso per quello che è. Cioè, un incontro così speciale e tutto. Però da fan di John Cena dico di sì. E sarebbe bello vedere. Penso anche da fan di... Austin Theory è un fan di John Cena, l'ha dichiarato più di una volta. Personalmente non ci sono mai visto queste analogie di Austin Theory e il nuovo John Cena. Anzi, secondo me è più una specie di Randy Orton. Però ragazzi, è un match che vorrei vedere. E per Austin Theory stesso è un qualcosa che sarebbe importante. Anche se ci fosse il titolo di mezzo, chissene. Russell Man è questo. Cioè, anche se tra tutti i match, un match è un po' più randomico. La leggenda di turno, perché sì, ne è questo. Però io da fan dico di sì. Non ce la faccio a dire di no. Beh, in chat sto profilando alcuni dei vostri messaggi. Sembrerebbe che il sì abbia preso un sostanziale vantaggio, anche se diversi di voi, non tanti, ma una parte non irrilevante come tracker. Spera che alla fine però il match lo si faccia e che a vincere sia Theory. Quello lo spara anch'io. Però secondo me molte persone dipende molto dall'età. Se hai una certa età simile alla mia, a me ce la puoi vedere. Perché John Cena comunque parte dall'infanzia di chiunque abbia la mia età, di là di tutto. E sia fan di wrestling. Forse chi è un po' più grande lo vede un po' più di distacco. Però mettiamola così. È come quando tornava al Kogan nei primi 2000. Cioè, se l'hai vissuto in pieno da ragazzina, è ricasato, magari che era... di una età diversa, potremmo dire, no? O comunque non capire. Quasi entra al cuore, capito? È come Undertaker per il Fiend. Cioè, so, quelle cose che vanno oltre il dire bello o brutto e chisse, ne voglio vedere. Come il meme di Fry di Futurama. Share up and take my money. Cioè, mettiamola così. Bello, ti amo.